Abbiamo un rapporto di fiducia reciproca, quasi di amicizia con le agenzie, per stare a riferire anche al nostro slogan, un amico in Sardegna. Vogliamo essere un amico, un punto di riferimento, un consulente, abbiamo evitato di avere call center, di avere prenotazioni telematiche, tutte queste cose qui, se vuoi parlare con il booking Digital 5 o Digital 6, sappiamo che ci costa di più, però preferiamo un rapporto umano, una conoscenza perfetta del prodotto che chiaramente essendo nostro ed essendo anche del posto possiamo dare tutti i consigli e le informazioni necessarie. Nel tempo ormai è dal 95-96 che abbiamo iniziato a stampare dei cataloghi e a collaborare con le agenzie di viaggio, pur collaborando sempre anche con i principali tour operator e si è stabilito un rapporto di fiducia che ci gratifica, soprattutto in tempi di crisi siamo molto contenti. Noi abbiamo una strategia che poi non abbiamo inventato l'acqua calda e molto semplice, che è quella di cercare di dare il giusto rapporto qualità-prezzo. Quindi noi già una decina di anni fa intuimmo, capimmo che non bisognava fare la lotta sul prezzo e quindi andare anche a risparmiare, a risicare i suoi servizi, ma al contrario cercare di investire per dare sempre qualcosa in più. Iniziamo sulla ristorazione perché decidiamo che dovevamo essere conosciuti e rinomati per il fatto di far mangiare bene e quindi abbiamo iniziato con la ristorazione, per seguire poi con il rinnovamento, la ristrutturazione delle camere, abbiamo realizzato sei centri talassia e spa con delle piscine di acqua marina riscaldata in riva al mare, cercato di dare dei servizi per i bambini con dei mini club, con piscine dedicate, vivenolerie eccetera, e tutti gli anni insomma un piccolo investimento che a volte ha comportato anche un piccolo aumento di tariffa, però soprattutto in periodo di crisi, ripeto, è preferibile avere una tariffa leggermente più alta e però garantire il prodotto, garantire il servizio piuttosto che non farsi la guerra poi sul prezzo e andare però a discapito della qualità del servizio. Cinque Stelle Libertà abbiamo pensato, coniato questo slogan perché ci siamo accorti qualche anno fa che l'utileria a quattro stelle era diventata ormai, aveva una furbuce troppo larga, cioè su un quattro stelle si trovava il prodotto molto basso e il prodotto anche molto alto, per contro nella società stava avvenendo e stava avvenendo tuttora il manifestarsi di un cliente medio alto che non gli interessa il lusso, non gli interessa i fronzoli, la giacca alla sera, i gioielli eccetera, però vuole la sostanza, cioè vuole una bella camera, un bel albergo, una certa garanzia di un certo servizio, se non è più disposto a rischiare nell'ampia furbuce del quattro stelle, che gli vada bene o gli vada male.